buongiorno a tutti allora si sono disputate le altre due partite della champions league e io sono inviperito perché si è normale la sfida interna vedere la juve che perde che bello che bello che bello però francamente io ve l'ho già detto anche perché arrivo da una mentalità diversa sono diversamente giovane quindi noi quando ero bimbo quindi finché sono andato alle superiori cioè fino ai 19 20 anni quindi da zero a 20 si schifava le avversarie tra virgolette schifare nel senso sì c'era quel sana la sana rivalità sportiva l'odio sportivo quello che volete in Italia però in Europa si schifava la squadra italiana è sempre stato così anche perché se vinceva la squadra italiana vinceva l'Italia c'era quel bel patriottismo perché a me il nazionalismo non c'è l'odio verso gli altri tu non sei italiano ti odio perché tu sei un testa di cazzo ti odio scusate il francesismo ma se tu sei una brava persona però sei che ne so olandese tedesco svizzero francese o quello che è ma sei una brava persona perché ti devo odiare perché sei francese perché sei tedesco no e quindi cosa succedeva c'era il fatto che c'era il patriottismo quindi giocava la finale la juve giocava la finale l'inter giocava la finale il milan si tifavano le squadre italiane io ricordo che prima della finale dell'esela litigai con un mio mio compagno di classe milanista e tifosissimo del liverpool anch'io sono tifoso del liverpool volendo e del bayern monaco come squadre straniere mi stanno simpatica però se l'inter gioca col bayern monaco spero di vincere se l'inter gioca gol liverpool spero di vincere è normale allora litigai perché lui era tifosissimo milanista però adorava jan rush lui giocava in attacco era un attaccante quindi per lui jan rush era l'idolo avevamo 16 17 anni quindi giovincelli non che sia cambiato più di tanto anche adesso i miei amici dicono tu hai sempre 16 anni e non so se è un complimento un'offesa ma fa niente quindi vedere la juve che mi perde 2 a 1 col porto giocando di merda e a un certo punto i cronisti io stavo venendo diretta gol quindi si passava da porto juve a siviglia dormo porto juve siviglia dormo io preferisco vederle così le partite a meno che non gioca l'inter se gioca l'inter mi vedo tutta la partita dell'inter ma se ho l'opportunità di avere diretta gol mi piace vedere tutto il calcio minuto per minuto in tv è un sogno di noi che per anni abbiamo sentito le partite per radio e finalmente poter avere la diretta gol con il passaggio da un cronista all'altro così almeno non hai tempi morti non c'è quel momento in cui ti viene l'abbiocco perché le due squadre si stanno studiando come si suol dire e quindi magari passano da una e se non gioca la tua squadra diciamo che sì ti interessa la partita ma fino a un certo punto e quindi pronti via neanche il tempo erano su siviglia dormo andiamo a porto andiamo a porto andiamo a porto ero raccio di betancur maronna benedetta dell'incoronata come cazzo hai fatto a fare una roba del genere allora qualcuno ha detto eh ma gli ha passato allora il il portiere gli dà la palla sulla loro tre quarti lui torna nella sua area di rigore passa la palla al portiere vedendo che comunque tra la palla e il portiere c'è l'attaccante del celtare i mili come cavolo si chiama il giocatore del porto hai due compagni di squadra ai lati a cui puoi passare la palla fuori area che male che veda la spazzano perché comunque avevano il giocatore a tre metri quattro metri se gliela dai si ti può pressare gli tiri addosso e stop no nella dà il portiere con l'attaccante che era lì che come uno squaletto che non aspettava altro scesne è andato in in contrasto contrasto palla in porta 1 a 0 per il porto poi vabbè ti chiediti che ti tocco rovescettina di qua azione di qui azione di là primo tempo finisce 1 a 0 ho detto beh il secondo tempo pareggeranno lo troveranno il gol del pareggio pronti via prendono il secondo gol un'azione normalissima si sono lasciati in finocchia sono stati lì a guardarli passaggio passaggio sul lato cross in mezzo tiro gol con la difesa che era lì che guardava osservava porto juve 2 a 0 ronaldo guardate veramente non lo so che cosa cosa ci avesse cr7 ma anche messi ieri è o meglio l'altro ieri visto che ormai siamo già giovedì perché anche quando c'è stata quell'occasione con quando è entrato morata no che ha tirato addosso al portiere la palla arriva ronaldo se la se la prepara vuole farla mezza rovesciata manco lo prende avrebbe poi fischiato il fuorigioco se avessero segnato eccetera perché c'era morata in fuorigioco ma non l'avevano manco visto meno male che per loro ha segnato chiesa e quindi mi auguro per loro che al ritorno almeno un 1 un gol senza subirne 1 0 a 0 ma vedendo come han giocato contro di noi ieri la gara di ritorno dopo aver vento 2 a 1 all'andata non lo so non lo so chiesa ha segnato comunque un bel gol qualcuno ha scritto una ciabattata no la piazzata cross basso di rabbiò è arrivato bello tranquillo nell'angolino col portiere che è rimasto lì come un ciuccio e quindi porto juve 2 a 1 ma ripeto pur i cronisti di sky che sapete sono lì a leccare hanno detto è la peggior juve dell'anno e tu stai giocando un ottavo di finale di champions league poi vabbè c'era quel mezzo rigore lì che forse in italia l'avrebbero dato forse però c'è da dire che ronaldo era stava già cadendo era già in volo quando il giocatore gli va addosso e non mi possono dire non è vero perché lui per fare quella sterzata si ribalta da solo ed è già lì messo così poi logicamente il giocatore gli va addosso ci poteva stare se lo fischiava non c'era nulla da dire però francamente andare a fischiare un rigore del genere però d'altronde non era rigore non era rigore quello su lautaro quindi non so come fanno a dire che rigore questo non era rigore quello su mkhitaryan che il portiere lo stende e no perché la palla era già uscita poi non era rigore quello di chiellini che gli mette cinque dita in faccia quindi per loro sono però adesso dell'idea che quello non è calcio di rigore però in italia forse l'avrebbero fischiato forse sottolineo forse ma in ogni caso un 2 a 1 della juve contro il porto e deve giocare in casa la gara di ritorno è vero che se senza tifosi ma tra due settimane potrebbero recuperare un po' di gente anche se ripeto del mirale e dell'aic contro di noi hanno fatto un partitone anzi mi ero complimentato proprio cazzo scusate il francesismo che bel difensore del mirale giocano la champions bu si vede che loro come sentono la musichina della champion vabbè andiamo a Siviglia dormo va con un Siviglia che passa in vantaggio col solito gollonzo il gol di culonzo ho detto questi come al solito Kulovic non li abbandona mai tiro di suso mi sembrava ci fosse già stata una prima deviazione di un giocatore invece no il portiere è già lì bello tranquillo in tuffo che sta per prendere la palla il suo difensore cosa fa? gliela tocca si mette lì il piede per respingerla invece cosa fa? la palla prende un sobbalzo si inalza il portiere è lì già in tuffo cerca con la manina di prenderla ma lì sono quelle cose che proprio ti mangi il difensore perché era un tiro che lo prendevi comodo comodo e invece con la deviazione quindi il Siviglia passa in vantaggio è che poi come è successo ieri al Barcellona anzi l'altro ieri perché ormai siamo a giovedì cosa succede? si sveglia il dormone patapim patapem patapim patapem tre pere perché nel primo gol è una bella azione di Alan sulla fascia ne beve due se ne bevutina di due giocatori passa in mezzo da hot da hot si avvicina circospetto all'area di ricore e appena arriva alla posizione giusta per poter tirare il missile tira il missile e palla quasi all'incrocio giù di lì però il portiere se faceva quel passettino e poi si lanciava magari lo prendeva invece si è lanciato soltanto e gli è mancato proprio poi Alan si mette in società con Sancho quindi azione veloce scambio veloce passaggino di Sancho per Alan che si presenta davanti al portiere in scivolata lo anticipa e segna il gol del 2-1 il terzo gol è un bel contropiede sempre del dormone che ruba palla a metà campo con Royce mi sembra Royce punta l'area di rigore ce ne sono due liberi Alan da una parte e l'altro giocatore che non mi sovviene chi era Royce passa la palla ad Alan che col sinistrino apre come si suol dire il compasso e palla nell'angolino nella ripresa il Siviglia rischia di pareggiarla perché prende un palo clamoroso su un calcio di punizione che sembrava fosse la parata del portiere invece no il tiro a giro bello prende il palo poi il portiere è fortunato perché la palla anziché rimbalzargli sulla mano e terminare dentro gli tocca i polpastrelli come direbbe l'allenatore non so se era forse era Pioli quando c'era Inter Fiorentina che c'era il tocco di polpastrello gli tocca i polpastrelli e quindi anziché andare verso la porta come capita spesso ai portieri che fai il volo ti tuffi la palla colpisce sul palo ti becca sul capocciono sulla schiena eccetera e termina in porta invece gli termina sulle mani attraversa tutto lo specchio della porta senza che nessuno riesca a intervenire e toccarla arriva un difensore del Dormund e l'allontana poi De Jong trova finalmente il gol del 2-3 ma ormai ormai è tardi Dormund che ha praticamente la qualificazione in tasca e signori miei io credo che Haaland e Mbappé saranno i due giocatori che andranno a sostituire Messi e CR7 per i prossimi anni nella lotta al pallone d'oro a meno che non si sveglia Neymar che però comincia ad andare verso i 30 perché ricordiamoci Haaland ha 20 anni 19 o 20 anni e non so se è un 2000 o un 2001 e Mbappé ne ha 22-23 quindi i prossimi 6, 7, 8, 10 anni io non vedo altri due giocatori altrettanto forti in questo momento tenendo conto che Haaland ha la sfiga di essere se non ero norvegese se non sbaglio ma magari mi sbaglio quindi correggetemi se sbaglio dopo controllerò Mbappé ha la fortuna di essere francese la nazionale francese è uno squadrone almeno per ora poi bisognerà vedere la nuova generazione che arriva ma hanno una squadra che può durare ancora fino ai mondiali tra due anni anzi tra un anno oramai perché nel 2022 ci sono già i mondiali quindi la nazionale francese può vincere l'europeo e il mondiale e le Mbappé se la nazionale vince automaticamente è pallone d'oro quindi vedremo cosa uscirà nei quarti magari mi viene fuori un bel Dortmund Paris Saint Germain che è la rivincita dell'anno scorso e dei quarti dell'anno scorso magari si ripresenta comunque le partite si sono giocate io credo che la Juve al ritorno 2 a 0 e si passa per loro spero per loro perché se no mi sa che un po' di gente si suicida per la figura di merda anche perché ci hanno preso per il culo a noi che francamente nel nostro girone abbiamo perso una partita anzi tutte e due le partite con Real Madrid per il resto tre pareggi e una vittoria comunque detto questo ragasoli io vi saluto vi ringrazio belle partite tutte e due comunque perché comunque belle partite è la Champions se non ti diverti nella Champions dove ti diverti ciao 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 ciao